C'è un'epoca di un'epoca di un'epoca di un'epoca di un'epoca. C'è un'epoca di un'epoca di un'epoca di un'epoca. C'è un'epoca di un'epoca di un'epoca di un'epoca di un'epoca di un'epoca. C'è un'epoca di un'epoca di un'epoca di un'epoca di un'epoca. C'è un'epoca di un'epoca di un'epoca di un'epoca di un'epoca di un'epoca. C'è un'epoca di un'epoca di un'epoca di un'epoca di un'epoca. I don't know if that's enough, so yeah, I'm waiting for the ferry, but it's so full, so I don't know, I might fix another ferry. I don't know if that's enough, so I don't know if that's enough. I don't know if that's enough, so I don't know if that's enough. Okay, I don't know if that's enough. Oh my goodness. It's not that cold. Parang, madaling araw lang sa Pinas. And, syempre, sa skincare natin, wala naman siya. I don't know if that's enough, so I don't know if that's enough, so I don't know if that's enough. Thank you. I don't know if that's enough, so I don't know if that's enough, but I don't know if that's enough. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.